Questa sera tre nuove squadre tenteranno la fortuna in uno dei miei posti preferiti Il Garage Dovranno scatenarsi alla batteria Cercare di non cadere dal tapirulan E perfino mettersi al volante di una classica auto sportiva Le due squadre migliori si affronteranno sul vulcano per 10.000 dollari E un prezioso tesoro custodito nel vulcano Il trofeo di Florislava Questo è Florislava Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info